Buongiorno a tutti e bentornati con Studio Legale Balestra. Oggi parliamo di come un bruco condizionerà, o meglio, sta già condizionando le nostre vite. E' in attenzione dei dati personali, quindi lo sappiamo conosciuto come privacy, perché sono la macchina della giustizia, quindi sia dall'interno. Buonasera a tutti, bentornati, bentornati con Studio Legale Balestra. Questa casella con più che sul website che sulla pagina Facebook. Buongiorno a tutti e bentornati con Studio Legale Balestra. Perdonatemi se vado a leggere l'esempio di una proposta di modifica esclusivamente quelle delle persone tigre. Alla prossima! Buongiorno a tutti e bentornati con Studio Legale Balestra.